Tutto è partito da una segnalazione di una parte d'intonaco pericolante che ha fatto così scattare sabato mattina l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco appunto in piazza grande. Una piccola area davanti alle loggie è stata transennata per permettere ai vigili di mettere in sicurezza l'intonaco di parte della facciata. Purtroppo è stata un po' una doccia fredda perché io personalmente non sapevo niente, mi sono un po' stupito, certa sicurezza va avanti a tutto quindi dobbiamo sempre mettere tutto in condizioni soprattutto per i nostri turisti per stare tranquillo. Quello che mi è sembrato è assurdo che questo tipo di attività non si possono fare il sabato mattina, quindi se c'era dei problemi andavano gestiti sicuramente meglio e prima perché comunque stamani già con i turisti non capivano cosa era successo, poi siamo anche in un momento dove non dobbiamo creare noi i per primi allarme. Se c'era un problema andava fatto prima, magari anche transennato, ma non sicuramente il sabato mattina. E poi oggi transennato per quanto lo rimarrà? Ah questo non lo so, ora faranno i controlli, sembra che alla fine il problema era molto più lieve di quello che tutti pensano, quindi spero che venga risolto velocemente perché non ci possiamo permettere assolutamente sabato prossimo di perdere la fiera, perché senza poter mettere i banchi lì noi perdiamo la fiera e questo non è accettabile. Cosa è successo? Io so che l'amministratore di condominio ha mandato una letta dicendo che c'era dei pezzettini, credo di cornicione che si staccavano, però è stata mandata un po' di tempo fa, quindi nel frattempo ora si chiederà anche agli uffici del comune come hanno comunque gestito questa attività. Rimane quello che ho detto prima, ben venga la sicurezza, bisognava però essere più bravi di non farlo in concomitanza con l'inaugurazione perché insomma non è stata una bella scena. Grazie 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 Grazie